Dopo aver visto la forza peso, la reazione vincolare normale, la tensione di una fune e la forza elastica, vediamo un'altra forza molto importante che va sotto il nome di forza di attrito. Quindi forza di attrito. Allora, partiamo da un esperimento semplice che potete fare anche a casa. Supponete di essere su un pavimento, quindi supponiamo di essere su un pavimento e di prendere ad esempio una scatoletta. Diamo una spinta iniziale a questa scatoletta. Che cosa succede? Succede che questa scatoletta si mette in moto e dopo un po' di tempo si ferma. Naturalmente la domanda che possiamo porci, visto che siamo nell'ambito della fisica, e la fisica ricordiamo è la scienza della natura, e va ad indagare qualunque fenomeno che avviene in natura. Quindi ripeto, la domanda che ci possiamo fare, che è appunto una key question, è la seguente. Perché la scatoletta si ferma? Allora, adesso proviamo a dare una risposta simile a quella che avrebbero potuto dare i professori di Galileo, i quali si basavano sulle teorie aristoteliche. Quindi diamo una risposta da parte di quelli che sono gli aristotelici. Ecco, dobbiamo sempre stare un pochino attenti quando parliamo di Aristotele e quando parliamo degli aristotelici. Cioè gli aristotelici hanno preso le teorie di Aristotele e le hanno sostenute indipendentemente dall'evidenza dei fatti. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se Aristotele fosse vissuto ai tempi di Galileo Galilei, sicuramente avrebbe compreso e apprezzato i risultati ottenuti dal grandissimo fisico pisano. Quindi non confondiamo Aristotele con gli aristotelici. Che cosa avrebbero detto gli aristotelici? Gli aristotelici avrebbero detto questo. Il corpo si ferma perché su di esso non agisce più alcuna forza. Quindi, attenzione, voi prendete la scatoletta, la mettete in movimento, dopo un po' la scatoletta si ferma e la motivazione che danno gli aristotelici è la seguente. La scatoletta si ferma perché su di essa non agisce alcuna forza. Naturalmente questa risposta di per sé è già sbagliata. Per quale motivo? Perché quando noi lasciamo andare la scatoletta, secondo gli aristotelici, non dovrebbe più agire alcun tipo di forza e quindi la scatoletta dovrebbe fermarsi istantaneamente. Invece la scatoletta continua a muoversi. Dunque, già con questa semplice risposta, gli aristotelici hanno sbagliato. E quindi li cancelliamo. Per attenzione che voi dovete sapere, diciamo, che cosa dicevano gli aristotelici in quanto in una prova scritta o all'orale io potrei chiedervi che cosa pensavano di questo fenomeno i fisici prima di Galilei, cioè gli aristotelici. Ma veniamo invece a Galileo, Galilei. Vediamo cioè Galilei che cosa ci dice. Galilei ci dice che questo corpo che noi mettiamo in movimento, diciamo, sulla superficie del pavimento, si ferma a causa della presenza di attrito. cioè Galileo ci dice sostanzialmente che il corpo si ferma a causa dell'attrito che agisce fra le superfici del corpo e del pavimento. Infatti, il grande fisico sperimentale Galileo Galilei che cosa dice? Dice che se noi levigassimo la superficie del pavimento e levigassimo la superficie del corpo in maniera via via più perfetta possiamo notare che il corpo tende a percorrere distanze sempre più lunghe. Quindi, la causa dell'arresto del corpo è dovuto alla forza di attrito. Allora, adesso noi non possiamo esaminare in prima, in dettaglio, questo fenomeno perché nella prima noi ci occupiamo della statica del punto materiale, mentre invece in seconda ci occuperemo della dinamica del punto materiale e quindi io, diciamo, entrerò con maggior dettaglio su questo esperimento. Tuttavia, quello che noi possiamo dire da un punto di vista così semi-quantitativo è questo. Quando noi lanciamo la nostra pallina, il nostro oggetto, il nostro oggetto ha una certa velocità. Per esempio, in questo verso. Ora, fra il pavimento e invece il corpo si determina una forza che si oppone al movimento che si chiama forza di attrito. E cosa fa la forza di attrito? La forza di attrito non fa nient'altro che diminuire via via questa velocità fino ad arrestare il corpo. Quindi, la forza di attrito si oppone alla velocità fino ad arrestare il corpo. Galileo Galilei ci dice che se fra queste due superfici non ci fosse attrito il corpo continuerebbe a muoversi con la stessa velocità V per sempre o comunque fino a quando non incontra un ostacolo che lo ferma. Quindi, quello che adesso sintetizzando possiamo dire è che fra un corpo e una superficie si viene a creare dell'attrito. Questa spiegazione qui della forza di attrito e della velocità è una spiegazione semi-quantitativa. Il prossimo anno entreremo maggiormente in dettaglio anche perché quest'anno non abbiamo ancora dato la definizione di velocità. Uno si chiede ma da un punto di vista microscopico cosa possiamo dire sulla forza di attrito? Beh, da un punto di vista microscopico se noi andiamo a fare un ingrandimento delle superfici a contatto noi vediamo che la superficie del pavimento che ci sembra liscia risulta essere di questo tipo mentre la superficie della scatoletta che ci sembra liscia risulta essere di questo tipo e quindi quando noi lanciamo questa scatoletta vediamo che le superfici non sono perfettamente lisce quindi si ha un fenomeno di sfregamento un fenomeno di attrito che tende a rallentare il nostro corpo. L'attrito che abbiamo visto fino adesso prende il nome di attrito dinamico perché? Perché il corpo è in movimento quindi lo ripeto l'esperimento da cui siamo partiti che è uno degli esperimenti fondamentali condotti da Galileo Galilei si chiama anche esperimento di attrito dinamico perché noi abbiamo un corpo in movimento su di una superficie rugosa su di una superficie che presenta attrito consideriamo invece un altro esperimento in cui il corpo risulta essere fermo e si chiama esperimento di attrito statico in altre parole consideriamo una superficie su questa superficie abbiamo un oggetto che risulta essere fermo l'esperimento che adesso andiamo a realizzare è un esperimento denominato di attrito statico ora supponiamo di prendere un dinamometro quindi una molla va bene e di tirare il corpo verso destra quindi ripeto abbiamo un corpo abbiamo la nostra il nostro dinamometro eccetera supponiamo di applicare al corpo una forza verso destra una forza di questo tipo allora che cosa si osserva da un punto di vista sperimentale da un punto di vista sperimentale si osserva un fenomeno di questo tipo cioè fino a quando fino a quando l'intensità della forza non supera un valore che indichiamo con F AS max il corpo non si muove questo è un esperimento che sicuramente faremo dal ritorno diciamo di questa quarantena forzata quindi ripeto noi abbiamo un corpo fermo su di una superficie iniziamo a tirare il corpo verso destra con una forza F ora fino a quando la forza F non supera un valore che indichiamo con la lettera F AS max il corpo non si muove e questo è un fatto molto importante di conseguenza se il corpo non si muove allora significa che che sul corpo agisce una forza opposta per il principio fondamentale della statica questa forza opposta si chiama forza di attrito statico forza di attrito statico dunque ripeto l'esperimento noi abbiamo un corpo applichiamo una forza F finché la forza F non supera il valore F AS max il corpo non si muove siccome il corpo è in equilibrio vuol dire che su di esso agisce una forza opposta questa forza opposta noi la chiamiamo forza di attrito statico quindi agisce una forza che chiamiamo così F S e quello che risulta è che F più F AS deve essere uguale a 0 a 0 Grazie.